C'è il quartiere di Saione al centro della conferenza stampa di fine anno di Confesercenti, il quartiere aretino che ancora soffre e registra episodi di microcriminalità. Il mercato del martedì in Piazza Zucchi, voluto da Confesercenti in collaborazione con CIA e Confagricoltura, è una scommessa vinta e sarà portato avanti anche nel 2019. Il settore del commercio però continua a soffrire la crisi dei consumi, morde anche ad Arezzo. Ma è sempre un chiaroscuro nel senso che il commercio è in difficoltà, lo si sa, poi recentemente i consumi stanno ancora calando, il tessuto è messo a dura prova, ci sono segnali di reazione in tante attività ma c'è ancora molte difficoltà e il ruolo in questo caso delle associazioni di categoria con tutti i servizi, credito eccetera, fa in modo che non si perda una caratteristica fondamentale per il nostro paese che è il tessuto della piccola impresa perché è fondamentale e quindi un suo ulteriore degrado sarebbe una perdita non solo economica per tante famiglie che ci lavorano ma anche sociale, di socialità che riesce a esercitare, di vivacità dei nostri paesi, caratteristiche che servono anche a quel turismo che noi auspichiamo che possa crescere per dare sollievo alla nostra economia. L'altra punta di orgoglio nel bilancio dell'Associazione di Via Fiorentina è la continua vicinanza ai negozi di quartiere minati da grande distribuzione e web. Lo spettacolo Cia Mazzon, con un chiaro riferimento al colosso dell'e-commerce, raccontava proprio questo. Una manifestazione, quella di tovaglia a quadri, che ormai da anni si svolge nella bellissima Anghiari, da sempre sostenuta da confesercenti. Non è che si può sempre pensare al piccolo negozio, quando deve accendere le luci per Natale, quando deve stare aperto 24 ore, quando deve dare un servizio, la sicurezza nelle strade. Noi con una serie di servizi cerchiamo di aiutarli a superare queste difficoltà.